Ho finito di verniciare questa bicicletta, le bici prodotte artigianali di alta gamma insomma su youtube vedete questi filmati anche artistici perché poi le presento completamente black, yellow colorate totalmente, cambio externe, tutte ricoperte di colore perché vengo dalla scuola d'arte e sto conquistando un po' il mercato dell'estero, anche Miami, ma non per fare il personaggio mi conoscete come artista con i miei quadri, però alla fine con poco, anche questa l'ho fatta con una bomboletta per capirci, si può fare una bicicletta e poi si possono mettere le etichette, si possono mettere le spennellate, la firma, adesso magari in un altro momento facciamo un'altra ripresa e vi faccio vedere come si può creare una bicicletta anche semplicemente col tocco dell'artista comunque su youtube andate a vedere su Parovista sempre le creazioni artistiche di queste biciclette va bene?